Il bar è nelle tue mani mentre siamo via D'accordo, buona fortuna Ok E adesso possiamo esplorare nuovamente la zona Però questa volta che cosa succede? Succede che le case che prima non potevamo esplorare Adesso le possiamo esplorare Quindi se noi andiamo di qua Possiamo interagire Forse possiamo interagire dopo che parliamo lì Ok, allora, prima facciamo una cosa Beh, è normale non capire una mazza Poi da piccoli Sì, un'altra giornata fiacca Se continua così mi toccherà chiudere Mi sa che è inutile cercare di vendere prodotti qui nei bassi fondi Oh, cosa vedo? Non sarei mica un cliente Fantastico, benvenuto Vendiamo, compriamo, tutto Ok Qui, diciamo che l'unica cosa effettivamente Da comprare è la materia ardente Perché ci permette di utilizzare fire Però ovviamente non ne compreremo più copie Comprarne più copie non ha molto senso Perché comunque avremo modo di poterle ottenere anche più in là La materia glaciale già la possediamo Galvanica che sarebbe quella tuono la possediamo Ed energetica la possediamo Quindi per il momento non dobbiamo fare niente Possiamo uscire Molti all'interno del gioco qui vendono Vendono oggetti In questo caso vendono l'etere solitamente Viene venduto l'etere Non consiglio io in realtà di farlo Perché grazie a quest'etere In realtà potremo Prolungare il nostro periodo di farming In una zona ben specifica Anche per livellare le limit Quindi sarà un passo importante Quello di ottenere gli eteri E poterli sfruttare Per curare successivamente il party E mantenerlo in vita Per l'accumulo delle limit Invece per ritornare al discorso di prima Limit vi faccio vedere come funzionano le limit Vedete? Abbiamo diversi livelli di limit Livello 1, livello 2, livello 3 e livello 4 Come vi ho spiegato prima Ogni livello possiede due limit a disposizione La prima in questo caso è sempre disponibile Le altre si sbloccano piano piano Tranne la quarta La quarta possiede una limit unica Che potrà essere sbloccata col manuale Viene definita manuale Che sarà un oggetto nello specifico Che otterremo all'interno del gioco In vari modi Ok? Era giusto per farvelo vedere a schema Per farvelo vedere visivamente Possiamo andare avanti Nel frattempo possiamo equipaggiare a Barret Per la sua nuova arma Fucile d'assalto Che tra l'altro ci consente di ottenere gli slot materie E guardate Le slot materie in realtà E guardate con i collegamenti Queste saranno delle cose importantissime Perché potrete notare Ovviamente ora accessori non ne ho Ma tra poco li prenderemo Che quando equipaggiamo una materia All'interno di un'arma O in generale all'interno di un equipaggiamento Avremo non solo la possibilità Di farla aumentare di livello Ma avremo addirittura la possibilità Anche di concatenare degli effetti Ovviamente la concatenazione degli effetti A che cosa farà riferimento? Farà riferimento al collegamento Quindi se la nostra materia in questo caso Avrà un collegamento Potrà sfruttare degli effetti Se non ha il collegamento Non potrà sfruttare ovviamente gli effetti C'è da dire che però Non tutte le materie possono avere combinazioni Infatti in questo caso Avendo due materie della tipologia Elementale Non si uniscono gli attacchi elementali Cioè noi non uniamo il tuono con il ghiaccio Perché vedremo all'interno del gioco Soprattutto adesso che andremo a prendere Una materia di supporto Che esistono delle materie O in generale esiste la materia di supporto Che praticamente ti darà degli effetti bonus E ti permetterà di sfruttare Un potenziale diverso per la tua materia In questo caso le leviamo da cloud Perché cloud non ha necessità Anzi diamo quella glaciale Mentre invece a barrett Diamo quella di tuono E a tifa Diamo quella ardente Per il momento Ovviamente è rimasta fuori Quella energetica Quella energetica L'equipaggieremo adesso Quindi non vi preoccupate Allora Qui possiamo parlare un po' con tutti Non credo tu possa imparare Tutto quello che so io In un giorno solo Ehi novellino Scusa ma Il mio amico al secondo piano Ti spiegherà tutto al posto mio Vi ricordate che tifa Ci ha detto di andare al secondo piano? Esatto Proprio per questo motivo Però prima Ehi tu Ecco non puoi andartene da qui Senza comprare nulla Potrebbe essere pericoloso Capisci cosa voglio dire? Sì praticamente Ci stai minacciando Ok grazie Molto gentile In questo caso Ci sarebbero da comprare le granate In realtà io non lo faccio Perché le granate Sono comunque uno strumento Da speedrun Solitamente gli speedrunner Utilizzano le granate Per velocizzare i combattimenti Io non ne ho bisogno Perché non devo velocizzare i combattimenti Io dovrò farmare Io dovrò stare Praticamente incollato Ore per livellare Le limit dei miei personaggi Ma questa sarà una cosa Che voi vedrete La prossima volta Perché non vi farò sorbire Il mio farming Questa sarà un farming Che farò io per conto mio In questo caso Bisogna comprare che cosa? Il fucile d'assalto E l'arma che abbiamo già ottenuto Quindi non dobbiamo Prenderne un'altra copia Le granate Come vi stavo dicendo prima Sono il mezzo più rapido Per le speedrun Perché le granate Fanno un buon quantitativo di danno E vi consentono quasi Di shottare Anche alcuni boss Che vedremo più avanti A me non interessa Perché saremo talmente forti Che i boss Li shottiamo lo stesso La cosa invece da comprare È la banda di ferro La banda di ferro Per un collezionista O comunque per un completista In questo caso come me Di Final Fantasy 7 È fondamentale da comprare E perché? Perché la banda di ferro Esiste solo ed esclusivamente In questo negozio Non si troverà più all'interno del gioco Quindi se voi non la comprate adesso Vi mancherà All'interno dell'inventario La banda di ferro Cioè È assurdo Da pensare Ma è così Quindi ne compriamo addirittura Tre Equipaggia Banda di ferro Ovviamente su tutti E adesso Che abbiamo la possibilità Di equipaggiare una materia Diamo quella energetica Sempre attiva Ovviamente Mi abbassano gli HP Perché PV max Meno 2% Però mi aumentano gli MP È una cosa importante questa Perché con Barrett Saremo attaccanti Tra l'altro possiamo anche fare così E uno dice Perché hai messo Barrett In seconda fila Anche qua esiste La metodologia delle file Per quanto riguarda I personaggi Perché I personaggi in seconda fila Subiranno la metà Dei danni fisici Ma faranno anche La metà dei danni fisici Mentre invece Gli amici In questo caso In prima linea Faranno il doppio Dei danni fisici Normali Ma subiranno Anche il doppio Dei danni fisici Barrett Utilizza Una mitragliatrice Barrett Non viene considerato Come attacco fisico Barrett Così come in opera Omnia Viene considerato come Ranged Quindi se noi lo mettiamo In prima fila O in seconda fila Non cambia nulla Farà sempre Gli stessi danni E giustamente Metterlo in seconda fila Ci aiuterà Tantissimo Perché Perché ovviamente Potrà subire più danni Ed è la stessa cosa Che faremo con tutti I personaggi Quando andrò a farmare Le limit Perché subirò meno danni Potrò resistere Più tempo in campo E quindi sprecare Meno MP Per curare Il party Ok Questa è una cosa Che giustamente Vi voglio anticipare Anche per darvi Gli strumenti Qualora voi vogliate Emulare Quello che farò io All'interno del gioco A questo punto Andiamo al secondo piano Perché se vi ricordate Noi dovevamo andare Al secondo piano Io facevo il cavaliere E mettevo le donne In seconda fila Beh Tifa In seconda fila È tra virgolette Un po' uno spreco Però ci sta Allora La prima cosa Da fare qui È Prendere questa Sfera Questa è una materia OP Da fare schifo Una materia Omni E tra l'altro Notate che il colore È blu Quindi non è Una materia verde Così come quelle Che abbiamo visto prima Ma è una materia blu Wow Quello sì Che è stato Un bel colpo Quella era una materia Ora apri Di questo portiere A caso Altro etere Molto 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 Importante A questo punto È doveroso Spiegarvi anche Che cos'è La materia Omni Vedete che il colore Della materia È diverso Questo perché Perché la materia Blu In questo caso All'interno di Final Fantasy 7 È una materia Di supporto Le materie di supporto Consentono di sbloccare Effetti speciali Ed è qui Che rientra in gioco Il discorso Dei collegamenti Tra le materia Perché i collegamenti Tra le materia Permetteranno Di sbloccare Gli effetti Addizionali In questo caso Dato che noi abbiamo Un collegamento Con la magia Tuono Che cosa succede? Succede che mettendo La magia Omni Permette di lanciare La magia Associata Su più bersagli Quindi noi abbiamo La possibilità Di lanciare La magia Che stiamo selezionando A più nemici Quindi in questo caso Noi Collegando gli effetti Di tuono Più omni Cosa si ottiene? Ovvero L'attacco All Una cosa che Su Final Fantasy 8 Per esempio Non esiste Perché su Final Fantasy 8 Abbiamo la magia Triple E la magia Triple Che ci permette Di fare più magie E quindi colpire Più nemici Mentre invece Su Final Fantasy 7 Non esiste Questa cosa E possiamo fare Gli attacchi A tutti quanti I nemici Soltanto Grazie Alla materia Omni Su Final Fantasy 9 Invece è diverso Perché le magie Omni Sono attive Fin da subito Basta premere L1 R1 In base alla situazione Per estendere La magia A tutti gli avversari O a tutto il party Ovviamente Questa meccanica Può essere Come dire Sfruttata Anche per le cure Quindi noi possiamo Anche mettere Energia In questo caso Qui E permettere Di curare Tutto il party In un colpo solo E quindi Risparmiare MP Che cosa succede Però Ovviamente La magia Omni Non è Tutta rosa e fiori Ha anche Ovviamente Un effetto collaterale L'effetto collaterale È che dividendo La potenza Della magia Sarà meno forte Rispetto al singolo Quindi se noi Lanciamo la magia Singolarmente A un avversario E facciamo Centodanni Questi centodanni Diventeranno 70 80 Però divisi A tutti quanti Quindi avremo Un attacco Meno potente Però Che colpirà Tutti E quindi Bisogna valutare Effettivamente Come e dove Utilizzare la magia Omni Nel miglior modo Possibile In questo caso Per una questione Di farming E per una questione In generale Anche di Sfruttamento Del level up Conviene Ottenere Omni Sulla magia Thunder Perché la maggior parte Dei nemici Che andremo ad affrontare Saranno delle macchine Quindi essendo delle macchine Subiranno Il tuono Su energia La metterò dopo Quando dovrò Farmare le limit Metterò Omni Su energia Così mi curo Con meno mp E curo Tutto il party Controlli di base Ok Questo ovviamente Lo sappiamo Eccetera Eccetera Prima di uscire Dal gioco Per riavviare E poi uscire Selezionando Esci Dal menu Oppure premendo Alt Più f4 Un dito Ma che diavolo Io sono L'indicatore Di posizione Chiamami Se dovessi perderti Premi aiuto Ed io ti seguirò In giro Restando sempre Sopra la tua piccola Testa a punta Cavolo Risalti persino Più di me Sono d'intalcio In questo caso Premi aiuto Di nuovo Potrebbe non sembrare Ma in realtà Sono un tipo Piuttosto impegnato E non posso Starti appresso Tutto il tempo Oh Sì che invece Starei appresso Tutto il tempo Quindi se non mi vedi Non arrabbiarti A presto Indicatore di posizione Questa è molto importante Perché come vi ho detto prima Alcuni passaggi Sono nascosti E l'indicatore Ce li farà vedere Ok Quindi ci sta Esatto E tra l'altro Abbiamo anche Diciamo Uno sfondamento Della quarta parete Ma aspetta C'è dell'altro I triangoli rossi Segnano delle uscite E i triangoli verdi Delle scale Ora puoi mantenere Sempre la calma In viaggio Sia che ti trovi A vagare Per vicoli bui O a scalare Ripide montagne A seconda di dove ti trovi Potrebbero non apparire Quindi sii prudente Benissimo Mentre invece Con questo tizio Otteniamo Il vero E proprio Tutorial del gioco Benvenuto Nella sala Del principiante Anche se a giudicare Dai tuoi occhi Tu tutto sei Meno che un novellino Ci mancherebbe Altro Sono stato Nei soldier Io Ti insegnerò Tutto ciò che so E lo farò Persino gratis Ecco qua Questo È tutto Ciò Che bisogna Sapere Del gioco E ragazzi Veramente Ve lo dico Col cuore in mano Questo È uno Dei tutorial Fatti meglio Nella storia Dei Final Fantasy Quindi Se volete Effettivamente Imparare Tutte le meccaniche Del gioco Senza confondervi Troppo Leggetevi Ogni Singola Cosa Perché È fatto Veramente Veramente Bene Io ovviamente Non ne ho bisogno Per cui andiamo avanti Qui c'è una piccola scenetta Che ci spiega Come funziona La limit Pum Bam Aiuto Tieni duro Per il momento La tua barra limite Si sta riempiendo Ok Ora la tua barra limite È piena Non trattenerti Usa una tecnica L'unica Ecco qua Ben fatto Ecco Qua ci hanno spiegato Praticamente Come si fa Ad accumulare la limit E poi Sfruttarla Ovvero Subire danni Accumulare la limit E poi Battere il nemico Magia Magia Aiuto Calmati Quando il tuo avversario Usa le magie Rispondi con sfera O con reflex Sfera Di mezzo ai danni Inflitti dalle magie Reflex Invece Li riflette Contro il nemico Ma il numero di volte Che puoi usare Questo effetto È limitato Non dimenticatelo Vedete Sono dei tutorial Che vi insegnano Delle strategie di gioco E ve le fanno vedere Così Visivamente Il che è molto più facile Da apprendere Ben fatto Ok Adesso parliamo Con i flexatori Ehi Ex soldier Insegnaci a combattere Possiamo anche pagarti Non sono così povero Da dover prendere soldi Da voi Ma posso insegnarvi Un paio di cose E qui abbiamo Un altro tutorial Perché se prima Avevamo il tutorial Di base Adesso qui abbiamo Il tutorial Del combattimento Ci sono diverse cose Che bisogna apprendere Nel combattimento Ma Sarò io stesso A spiegarvele Quando le faremo Per cui Devo andare Ok Questo è un punto Di salvataggio Qui puoi usare La funzione salva Dal menu O ripusarti Sfruttando una tenda Hanno anche altri usi Ma questo per ora È un segreto Se vieni sconfitto In battaglia Puoi ricominciare Da un punto Di salvataggio Quindi non devi mai Preoccuparti Più di tanto Anche se la situazione Sembra disperata Forse sto correndo Un po' troppo Ma quando lascerai Midgar Ricordati che Sulla mappa del mondo Potrai salvare ovunque Non dimenticartelo E questa è una cosa Abbastanza importante Ciao Io sono il punto Di salvataggio Non ti exol Sono sicuro Che ci incontreremo Ancora Durante i tuoi viaggi Alla prossima Bannata Sì proprio E io sono il forziere Voi principianti Dovreste sempre Tenere gli occhi Ben aperti Quando andate in giro Ovviamente Piccolo tutorial Per spiegare Che i forzieri Avranno quella texture E quindi noi dovremo Interagire con quella texture Mentre invece I punti di salvataggio Avranno quest'altro Tipo di texture E quindi noi La sfruttiamo In questo modo Quindi salviamo Anche qua E siamo a posto A questo punto Dovremmo salire Al terzo piano Salire al terzo piano In realtà È anche abbastanza inutile Però Facciamolo Così giusto Per una Per una cosa Di gameplay No Qui siamo Usando Che serve Che serve Tutte queste notizie Di aprire Ma che adesso Possiamo aprire Dove ovviamente Non c'è niente Ve lo faccio vedere Solo perché Prima vi avevo fatto notare Che le case erano chiuse Mentre invece adesso Sono tutte aperte Possiamo andare avanti Qui c'è sempre il punto di salvataggio E come potete vedere Il tizio Non c'è più Quindi Se praticamente Voi non ci avete parlato prima Così come ho fatto io Non potrete vedere più Quella sequenza animata Ora qui In realtà Potrei schippare E farvi vedere Come A forse non so se si può fare Con questa texture Perché Forse mi viene male Qua praticamente Perché dovrei utilizzare I poligoni Vabbè Vabbè Non ve la voglio fare vedere Anche perché se entro Poi è un casino Comunque Qui Si può schippare E si potrebbe andare Direttamente da corneo Ma Da corneo Ma Non lo facciamo ovviamente Non avrebbe senso Non resisto più Già Neanch'io Ehi Questa è la prima volta Che siamo d'accordo su qualcosa Si Beh Allora Chi mi dici se Si Ok Buongiorno Un'altra notte è passata Ma nulla è cambiato Vero Stai attento Mi raccomando E vedi di tornare D'accordo Ok Ah Ora qui c'è il treno Qui ci divertiamo Qui ci saranno Dei piccoli segreti Da fare Quindi fate attenzione Hey Questa non è una carrozza privata Dovete separarvi Di nuovo in mezzo A queste delinquenti Che fortuna sfacciata Mi ritrovo Guardate che bello Barrett Eh Eh Ehi tu Non è un po' troppo deserto Questo vagone Che diamine sta succedendo Ah E' Deserto A causa di Gente come voi Ah Aiuto Avete visto il notiziario Avalanche ha annunciato Altri attentati Solo impiegati Della scirra Devoti come me Andrebbero a Midgar In questi giorni Tu lavori Per la scirra Figlio di Non mi piegherò Alla violenza Non avrai nemmeno Il mio posto a sedere Che tra l'altro È tutto vuoto Quindi non so perché Dovrei cercare Il tuo posto a sedere Barrett Bah Ti è andata bene È tipo che si scusa Tra l'altro Si inchina Allora Cosa facciamo adesso Ah Perché Sei sempre calmo Tu Mi dai sui nervi Pare che abbiano Appena finito Di collegare i vagoni Partiremo tra poco Non pensi che sia ora Di parlare della missione Che c'è Sei impaziente Signor stacanovista E va bene Stammi a sentire Jesse te l'avrà già detto C'è un punto di controllo All'ingresso Della piattaforma superiore È un sistema Per controllare Gli ID Di ogni passeggero Sul treno Del quale la scirra Va molto fiera In pratica Non possiamo più Usare i nostri ID falsi Grazie per aver scelto Di viaggiare con noi Arrivo previsto Alla stazione Del settore 4 Ore 11.45 Orario di Midgar Abbiamo circa 3 minuti Prima del prossimo Controllo ID D'accordo allora Tra 3 minuti Saltiamo giù dal treno Tutto chiaro? Cloud Vieni qui Diamo un'occhiata Alle mappe Delle ferrovie di Midgar Nel frattempo Ecco Nel frattempo Tifa che cerca Di adescarci Sei l'unico Che viene a salutarmi Qui a casa mia Notevole Notevole Questo è un discorso Importante Lo vedremo tra poco Perché Quello ancora Sta tremando Pare che tu L'abbia già vista Pazienza Dai Avvicinati Ogni scusa È buona O Che strano Il punto di controllo Dannazione Deve essere andato Storto qualcosa Passeggeri Non identificati Localizzati Nel vagone 1 Blocco Delle porte In corso Andiamo Svelti Ok Qui subito A parlare di nuovo Con lui Sì Ok Via Vagone 1 Porte bloccate Passaggio A livello Di sicurezza 2 Sbrigatevi Le porte Stanno per bloccarsi Passeggeri Non identificati Correte Dobbiamo passare Al piano B Ok Anche qui Veloci Parliamo con lui Ok Via Ora qui Bisogna fare attenzione Vagone 2 Porte bloccate Passaggio A livello Di sicurezza 3 Ok Ce l'abbiamo fatta Non ancora Ci sarà un altro Controllo Tra poco Se ci trovano Siamo spacciati Ma non preoccupatevi Se continuiamo A cambiare vagone Dovrebbe andare Tutto bene Ecco Quella nel frattempo Ammazza A pugni Le persone Ecco Qui adesso Facciamo in modo Che il tizio Si avvicini Il più possibile Passeggeri Non identificati Si stanno spostando Lungo il treno Ricerca e in corso Ah Parliamogli Già Ok No Passa Ok Fatto Vagone 3 Porte bloccate Qui adesso Possiamo andare avanti Non c'è più niente Abbiamo preso tutto Vagone 4 Porte bloccate Passaggio a livello Di sicurezza massimo Ok Allora Perché qua era importante Allora Qua posso fermarmi Un attimo Perché era importante Allora Innanzitutto Abbiamo preso degli oggetti Che tecnicamente Sono degli oggetti In più Che otteniamo Nell'inventario Così Giusto qualche piccola chicca Mentre invece Perché era importante Non farsi catturare All'interno del treno Perché ovviamente Non farsi catturare All'interno del treno Aumenta i punti di Barrett Sempre per quel famosissimo Appuntamento a Gold Saucer Quindi Non farsi beccare Aumenterà la nostra stima Nei confronti di Barrett O per meglio dire Barrett Aumenterà la stima Nei nostri confronti Ok Ok Ci siamo Ehi Venite qui Perfetto Sono io Jesse Che ne pensi? Mi dona l'uniforme Della scirra? Sì Molto Ti sta benissimo Molto virile Oh grazie Mi fa piacere Almeno credo Ok Certo che fa paura È troppo tardi Per avere paura Ma poi perché sei voluta Venire a tutti i costi? Ecco Eh Perché sei voluta Venire a tutti i costi? Ehi Voi due Non c'è tempo Per chiacchierare Ehi Ho detto che non abbiamo tempo Non restate lì impalati Ok Sono pronta Vado Ti va bene se vado prima io? Un capo rimane sempre Fino alla fine Pensa a sbrigarti piuttosto Ok E vedi di non romperti Quella tua testa a punta La missione è appena iniziata La testa a punta Ci vediamo dopo Pensate voi al resto Ecco loro ovviamente sono Big Swedge E anche Jesse Travestiti Per chi magari Non l'avesse notato Bene Finora è andato tutto Secondo i piani Non abbassate la guardia Dobbiamo ancora arrivare Al reattore 5 Big Swedge E Jesse Ci aspettano più avanti Forza Andiamo Il reattore 5 Si trova in fondo A questo tunnel Noi ovviamente Non andremo Subito In fondo al tunnel Ci sono delle altre cose Che dobbiamo fare O per meglio dire Voglio farvi vedere Due cose In particolare Ovvero la comodità Di avere la magia Thunder All Sui nemici E poi Un'altra piccola chicca Quindi torniamo Tutto indietro Anziché andare avanti Andiamo tutto indietro E speriamo di incontrare I nemici Che Ecco Vediamo se sono Quelli che dico io Esatto Pausa Questi nemici Per noi In questo momento Sono ottimi Perché sono ottimi Perché farmare Questi nemici Ci permetterà di ottenere Le ragnatele Le ragnatele Sono un oggetto Estremamente OP In Final Fantasy 7 O per meglio dire La magia slow È estremamente OP All'interno di Final Fantasy 7 E in particolar modo Le ragnatele Ci consentono Di effettuare L'effetto slow Anche se non abbiamo La magia slow Quindi avere L'accesso Anticipato A una magia Tramite oggetto È assolutamente Importante E ripeto Sarà molto importante Dare slow A dei nemici Per determinate occasioni O per rubare Un oggetto Tecnicamente Quando sarà O addirittura Per permetterci Di attaccare Più volte Quindi non subire Danni Oppure Non lo so Tantissimi altri Vantaggi Che comunque Possiamo ottenere Grazie all'effetto slow Quindi è importante Se ovviamente C'è la possibilità Farmare Un pochettino Di questi mostri E io Dato che questa Sarà La mia zona Dove Farmerò Le limit Infatti siamo quasi In chiusura Per stasera Perché poi a mezzanotte Stacco Sapete che io Poi a mezzanotte Stacco Perché poi Cosa succederà Farmerò Le limit In questa posizione E farmando Le limit In questa posizione Avrò la possibilità Anche di farmare Le ragnatele Quindi farò L'uno E l'altro Unirò Utile E dilettevole Ecco perché Non ho Rushato Inizialmente Nel livellare I personaggi Nel farmare Le limit Nel farmare Niente Perché questo È un luogo Perfetto Per poterlo fare Magie Pulgor Su tutti Vedete Loro fanno Le ragnatele Filo Questo è L'effetto Slow Shottati Vedete Per formare Le ragnatele Shottati Tra l'altro Danno 80 punti Esperienza Alla volta Che sono Tantissimi E 8 AP O per meglio dire I PA I PA Servono Per le materie Perché anche Le materie All'interno Del gioco Vengono Sviluppate Vengono Migliorate E quindi Migliorando Ottengono Degli effetti Bonus Non abbiamo Ottenuto Niente Ovviamente Perché la mia Sfiga È sempre Costante Però va bene Ci sta Ovviamente Questi non sono Gli unici nemici Che possiamo Incontrare Ce ne sono Diversi E vediamo Se riesco A farvi Livedere Tutti No Sono Riapparsi Sempre Loro Vedete Come rallenta Anche L'animazione L'animazione Rallenta Perché appunto Abbiamo subito L'effetto Slow Ragnatela Visto L'abbiamo Ottenuta Una Questo È un Oggetto Ottimo Perché Come vi Dicevo Prima Ci permette Di effettuare La magia Slow Praticamente Ci permette Di rallentare I nemici Vedete tutti Questi settori Che stiamo Facendo All'indietro Questi settori Che stiamo Facendo All'indietro In realtà Avremmo potuto Risparmiarli Dal fare a piedi Se ci avessimo Se Praticamente In realtà No se ci avessimo Se ci fossimo Fatti catturare All'interno Del treno Quindi se noi Avessimo fallito Tutta la sezione Che vi ho fatto Vedere Delle varie chiusure Dei portelli Del treno I soldati Ci avrebbero Beccato E ci avrebbero Buttato fuori Quindi se ci avessero Buttato fuori In questo livello Noi avremmo fatto Più strada a piedi O in avanti O indietro In questo caso Stiamo facendo Più strada Per andare indietro Perché appunto Abbiamo completato Con successo Tutta la sezione Del Diciamo Del treno Che veniva bloccato E quindi Siamo andati più avanti Tutto qua Mi hanno colto Alle spalle Addirittura Questi nemici In realtà Non sono Un grosso problema Perché solitamente Fanno solo Ehm Praticamente Fanno soltanto L'attacco filo E l'attacco fisico Che leva Veramente Veramente Poco Nel frattempo Stiamo livellando Anche con Tifa Ecco E' questo Che volevo Farvi vedere Questa E' una zona Per parmare Esperienza Eccellente Perché? Perché Ogni qualvolta Noi ci faremo Beccare Da questi nemici Appariranno Praticamente Tre Nemici Di Praticamente Tre nemici Shinra Tre soldati Shinra E questi Tre soldati Shinra Non solo Ci daranno Un buon numero Di AP Quindi di punti Esperienza Per le materie Ma ci permetteranno Di ottenere Anche punti Esperienza Per il personaggio Quindi Questa E' un'area Che se voi Volete farmare Per quanto riguarda I livelli Dei personaggi E' ottima Straconsigliata Nella prima parte Del gioco Io invece Non farmerò Qui Io non farmerò Qui Perché? Il mio obiettivo E' quello di farmare Le limit Non di farmare I livelli Quindi Mi servono Nemici più deboli Che mi attacchino E quindi Cosa faccio? Ritornerò indietro Dopo E praticamente Mi farò attaccare Dei mostri Che incontreremo Dietro Perché saranno Molto più deboli Rispetto ai nemici Che incontreremo qua E ve li faccio vedere Guardate Nashinra Dobbiamo tornare indietro E invece no Voi siete di Avalanche E ci attaccano La prima volta E ripeto Questa è un'ottima posizione Per farmare livelli Guardate come sono resistenti Vedete? Con un thunder Non sono morti E guardate Quanta barra limite Mi fanno accumulare Diciamo Diciamo che Farmare qui Sarebbe utile Per le limit Ma In realtà Sarebbe un po' Controproducente Per i danni Che subisco Sarebbe un po' Controproducente Per i danni Che subisco Quindi mi conviene Farmi attaccare Da mostri più deboli Vedete? 84 esperienza E 9 punti PA 120 kill alla volta E come potete vedere Intrusi Un attacco terroristico Ecco Stanno arrivando I rinforzi Se arrestiamo Verremo attaccati Da altri soldati Se scappiamo Ovviamente Salteremo La scena E ripeto Questa è un'ottima zona Per livellare E quindi Farmare Esperienza Per i livelli Però Se volete fare come me E livellare le limit La cosa che dovete fare È questa Innanzitutto Formazione Portate tutti dietro In modo tale Da subire Meno danni Nei confronti Di attacchi fisici E successivamente Andare a zonzo Andare a zonzo All'interno di questa parte Del gioco Cercando mostri E facendovi attaccare Fine Dovete fare Dovete fare Dovete fare semplicemente Questo Stare fermi Immobili E farvi attaccare E farvi attaccare Punto Peccato che L'attacco Filo In realtà Non aumenti La barra Del limit Quindi dobbiamo Aspettare Che loro Praticamente Facciano Un attacco Vedete Subiamo Soltanto Quattro danni Alla volta E guardate La barra Limit Come cresce Di man mano Quindi noi Basta che stiamo Fermi E ci facciamo Attaccare Riempiremo Le barre Del limit Purtroppo E' noioso Me ne rendo conto Ed è per questo Che non lo farò In live E guardate Come sono veloce Ad attaccare Che belle le host Modificate Orchestrate Se vi ricordate Cosa vi ho detto Prima Io vi ho detto Che per livellare Le limit Di livello 1 Bisogna Utilizzarle Per tot volte Quindi il nostro Obiettivo E' quello Di utilizzare La limit Tot volte Cloud E in limit Ovviamente Se volessimo In un qualche modo Non lo so Ehm Avvantaggiarci Nel farming Potremmo anche Eliminare Magari Eliminarne Magari Due O tre Per lasciarne Di meno Sul campo E farci attaccare Solo da quei due In modo tale Che Se volessimo Comunque In generale Ehm Come dire Scappare O comunque Concludere L'incontro Perché Dobbiamo curarci Lo possiamo fare Ovviamente Subendo Quattro danni Alla volta Possiamo subire Tanti attacchi Quindi possiamo Far crescere La nostra Barra limite Diciamo Quasi Infinitamente Poi vi ricordo Tra l'altro Che io Non ho venduto Gli eteri Quindi possiedo Anche la possibilità Di recuperare MP Per poterci curare Quindi possiamo Prolungare Il periodo Di farming Che in realtà Senza eteri Sarebbe molto Più lento Rispetto al normale E quindi Avere la possibilità Di sbloccare Più limit Per i nostri personaggi Vi sto facendo vedere Soltanto questa Parte Adesso Solo per farvi Rendere conto Di quello Che dovete fare Qualora vogliate Emulare La mia stessa partita E anche per farvi vedere Come Effettivamente Bisogna Livellare Le limit Se ovviamente Avrete lo sbattimento Di volerlo fare Si potrà fare Anche più avanti In realtà Perché farlo più avanti Potrebbe anche essere Più producente Perché qui comunque Siamo anche abbastanza Lenti Nel caricare La barra limit Però Vi posso garantire Che farlo adesso Ci darà un vantaggio Per il futuro Perché In futuro Dovremo perdere Meno tempo Per farmare Le ultime limit Ma E farmeremo Tra l'altro Le ultime limit Solo Per una questione Di completezza Quindi non perché Sarà obbligatorio Ma perché Dovremmo averle Tutte quante presenti E quindi Scenicamente Sarà bello Da vedere Tutte le limit Sbloccate Sbloccate Nei vari ordini Tutto qua Ora Carichiamo le limit Con Barret E con Tifa Dopodiché Andiamo avanti Perché ovviamente Non starò qui a farmare Live Perché diventerebbe Logorante Veramente Diventerebbe Una cosa Logorante Soprattutto per chi guarda Per me In primis Sarà logorante Perché Dovrò perdere Un sacco di tempo Qui Per ovviamente Portare Il farming A un livello decente Tra l'altro Sentite Come si sente Anche Praticamente La base Quessimi Final Fantasy VIII In sottofondo Icos Tipo una sorta Di omaggio Anche all'otto Ok Tifa Limit Frenesia Guerriera Che ovviamente Fa cagare All'inizio Anche perché Tifa Messa in seconda fila Fa meno danni L'importante È utilizzare La limit Non tanto Il danno Che facciamo L'importante È usarle All'inizio Dopo Invece Sarà problematico Perché dovremo Eliminare Nemici Quindi Sarà ben diverso Allora Barret Dai Carica tu Così vi faccio vedere Nel limite di tutti E poi Possiamo andare avanti Anche se Quella di Barret L'ho già fatta vedere In realtà Ok Fatto Bella la patch Vero? Ti piace? Sono contento Che ti piaccia La patch Comunque Si si può scaricare Devi utilizzare La versione Steam Innanzitutto Per quanto riguarda Il gioco E una volta utilizzata La versione Steam Scaricare il programma Seven Heaven All'interno del programma Seven Heaven Scaricare poi Tutte le varie mod Che ti consentono Di migliorare la grafica A questo punto Cosa facciamo Per migliorare il farming Al posto della materia galvanica Ovviamente Togliamo La materia energetica E mettiamo la materia energetica Su Barret E quella galvanica La mettiamo A uso singolo A questo punto Possiamo fare Abilità Energia E possiamo curare tutti Vedete? Quindi con solo 5 MP Praticamente Abbiamo curato tutti Per il resto Da poter spendere Migliaia di euro Vabbè È tutto gratuito Quindi Cioè ti basta Avere la versione Steam Di Final Fantasy 7 Quindi Direi abbastanza Facile da ottenere Non costa nulla Manco 10 euro Costa su Instant Gaming Sì sì Ci sono anche le voci Eh io l'ho modificato Tutto a modino Oh Sono spuntati Questi sono utilissimi Per farmare le limit Perché fanno Dei danni Decenti Che poi Tra l'altro Sono delle sentinelle In realtà Queste Ecco Voglio farvi vedere I danni Vedete? E guardate quanto Aumenta la limit Cioè Farmare con questi Farmare con questi È utilissimo Anche perché Giustamente Guardate quanto danno Fanno Infatti Se volete Farmare Se volete Farmare le limit Vi consiglio Di beccare questi Come nemici È vero Che fanno Più danni Però Vi aiutano Perché vi fanno Farmare più in fretta Rispetto Comunque Ai Diciamo Ai ragni Di prima E poi Tifa Ha un'agilità Pazzesca Addirittura Posso toccarmi Per sta faccia Cioè Tifa è un ninja Ma poi Stanno bersagliando Tifa Poverina Che non c'entra niente Vabbè In realtà Dovrei premere sì Però vabbè È uguale Alla fine Non mi interessa L'importante È usare la limit All'inizio Allora Una la facciamo fuori Ma no Ma povera Tifa Perché fanno bene Allora A questo punto Utilizziamo la pozione Visto che Attaccano solo lei È inutile utilizzare Energia Però è strano Che mi targettino Solo Tifa Perché mi targettano Solo Tifa Non me la ricordavo Sta meccanica Particolare Sinceramente Ma ricordo Perché targettavano Solo lei Non so se c'è qualcosa Di nascosto In questa cosa Ovviamente possiamo Anche fare difesa In realtà Perché se ci difendiamo Subiamo Meno danni ancora Tra l'altro Seconda fila Più difesa Ci permette Di essere Molto più resistenti Vedete Solo 11 danni Quindi farmare Praticamente qui È oro puro Farmare le limit Qua è oro puro Vediamo se la difesa Si manteneva Fino alla prossima azione Io mi ricordo Che la difesa Si manteneva Fino all'azione successiva Quindi se io non faccio niente Dovrei mantenere la difesa Esatto Ovviamente Vi ripeto Ve lo sto facendo vedere Così soltanto per ora Non continueremo A farmare Cioè Farmerò io Poi da solo Cioè Vi evito questa rottura di palle Non vi preoccupate Tra l'altro Se spostiamo la linea E li mettiamo in avanti Subiremo più danni E subendo più danni In realtà La barra del limite Si riempie prima Diciamo che l'unica cosa Che un pochettino Mi potrebbe spaventare Sono i critici Fatto L'unica cosa Che mi spaventa Tecnicamente A metterli in prima fila Sono i critici Perché se i miei avversari Dovessero fare dei critici Mi darebbero un po' fastidio Perché giustamente Mi farebbero troppo danno E dovrei sprecare Più risorse per curarmi Puoi sempre trattenerci Con qualche aneddoto No vabbè Ma gli aneddoti Su Final Fantasy Arriveranno Nel momento in cui Ci saranno gli aneddoti E' inutile Che ve li spoilero prima Cioè Non ha senso Ci saranno tantissime cose Di cui parlare Su Final Fantasy Ovviamente Per come lo conosco io E per come ho intenzione Di raccontarlo a voi Che volete seguirlo da me Ma ovviamente Tempo al tempo Queste sono soltanto Piccole chicche Che vi voglio far vedere adesso Ma perché siamo in live adesso E non ve le farò vedere Più in là Cioè il farming Sarà una cosa Che farò off camera Non lo farò mai In live Questi fasci luminosi Sono sensori Di sicurezza Della scirra Non possiamo andare oltre Esatto Quindi bisogna andare di qua Diamine È piuttosto stretto laggiù E noi dovremmo passare da lì Che ha rottura Che ne pensi Cloud Ovviamente qui La scelta Viene fatta Semplicemente Perché Perché possiamo dare Un'occhiata Per permettere Ai personaggi Di fare la strada E tornare indietro E livellare Andiamo Per andare avanti Oppure restiamo qui Diamo un'occhiata In realtà Non è niente Niente di che Perché vedete Sempre è soltanto Loro Che praticamente Danno una controllata Sempre che non ci sia Nulla nel condotto Da poter usare Come appiglio Esatto Quindi una volta Scesi da qui Non potremo più Tornare indietro Non abbiamo tempo Da perdere La scirra Potrebbe trovarci In qualunque momento Cloud Non c'è altro modo E vedete Adesso le scelte Diventano soltanto Andiamo O restiamo qui Io in questo caso Farò andiamo Però ovviamente Sapete già Che io ricaricherò La partita Precedente Quando ho salvato prima Rifarrò le stesse cose Ma Mi prolungherò Più tempo qui Per farmare le limit Quindi non andrò Avanti Noi andremo avanti Adesso Solamente perché Ancora sono le 11 e mezzo Quindi voglio Continuare un pochino di più E voglio fermarmi In un punto Ben preciso Per staccare Stasera E poi ci rivedremo Ovviamente Giovedì prossimo Per continuare La seconda parte Di questa Perfect Run E tra l'altro Sono contentissimo Che c'è tanta gente Che ovviamente Sta venendo a guardare Perché sono Curioso Anche di sapere Se voi Effettivamente Conoscevate Le stesse cose Che conosco io O se io Vi sto arricchendo Il vostro bagaglio Culturale Dandovi delle informazioni In più O se io E l'altro E l'altro Grazie a tutti.